A distanza di poco tempo giungerà nuovamente nel Cilento il governatore della campagna Vincenzo De Luca. È prevista infatti per domani pomeriggio alle ore 16 e 30 presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania la cerimonia di inaugurazione dell'emodinamica. È una notizia che circolava già da diversi giorni ufficiosamente ma che ha avuto la conferma ufficiale della presenza del presidente De Luca con il post scritto su Facebook questa mattina da Simone Valiante, già deputato del Partito Democratico che non nasconde il suo dispiacere per non aver saputo della sua presenza in tempo utile da annullare i suoi impegni di lavoro per presenziare all'importante cerimonia. Ho appena saputo casualmente dalle telefonate di qualche amico amministratore che domani il presidente della regione campagna presenzierà ad un'importante cerimonia nell'ospedale di Vallo della Lucania, scrive Simone rammaricato per non essere stato invitato. Dispiace averlo saputo soltanto ora e per casualità i miei impegni di lavoro non mi consentono di organizzarmi annullando impegni già assunti. Tutti sanno che la storia della mia famiglia è profondamente legata a quell'ospedale come le 12.000 preferenze espresse sulla mia persona e sul governatore De Luca qualche mese fa. Sono anche in buona parte legate ad un mondo che abbiamo difeso e rappresentato da decenni e che soffre la crisi sanitaria e le precarietà delle strutture pubbliche principalmente del sud della provincia. Spero che la giornata di domani, conclude Simone Valiante, possa essere oltre che celebrativa, proficua per il lavoro ed il futuro della struttura sanitaria ballese e di tutta la sanità pubblica del sud della provincia salernitana.